A Z Tartar Control più efficace vi offre? Attenzione! Sta per arrivare un film carico carico di Verdone Ma che sta scherzando? E come no? E poi c'è Verdone, Verdone e Verdone Avete capito o no? Che sta arrivando Verdone Io? Quando? Giovedì alle 20.30 su Italia 1 Con un sacco bello Se a Peugeot 405 Berlina chiedevate linea, eleganza, interni raffinati Bene, oggi potete chiedere altrettanto a Peugeot 405 Station Wagon Peugeot 405 Station Wagon, temperamento Berlina Hunter, cacciatore di attimi Hunter, da Atkinsons Winchester Winchester Un mito che ha vinto il tempo Per essere oggi uno stile irrinunciabile L'unico L'originale Solo per gente come te Winchester The Original Portfolio Il gioco di Repubblica Quest'anno si chiama Portfolio VIP Bravo Grazie La tessera in omaggio nelle bustine di figurine dei VIP di Forattini Bravo Grazie E ancora più bello Bravo Grazie Bravo Ogni giorno ci sono Bravo Grazie Bravo Ogni giorno ci sono Ogni giorno Ogni giorno si diceva Portfolio VIP mette in paglio due premi Uno da 5 milioni e uno speciale da 3 milioni Ma come? Due vincitori al giorno allora? Bravo Grazie Portfolio VIP Ogni giorno concede il bis Bravo Grazie Grafic La nuova generazione di prodotti per la pettinatura Vai Vai da te Si può Crea con Grafic Prova il gel che non è grasso Vai Vai da te Si può Fissa con Grafic Si può Che volume con Grafic Lo spray modellante che fissa ciocca a ciocca Vai Vai da te Si può Ma che chic con Grafic Grafic di Garnier La nuova generazione di prodotti per la pettinatura Fai da te Con Grafic Se a Peugeot 405 Berlina chiedevate potenza, scatto, talento Bene, oggi potete chiedere altrettanto a Peugeot 405 Station Weaver Peugeot 405 Station Weaver Temperamento Berlina Grafic